In Piazza della Rinascita a Pescara, sabato 8 luglio, si è tenuta la seconda edizione dell'evento Artisti di Strada Sordi, organizzata dall'Associazione Accessibilità ed Eventi di Donatella Ruggeri e Savino Melacarne, sordi anche loro. L'evento è stato presentato da Monica Campoli, affiancata da due interpreti della Lingua dei Segni, Nunzia Orefice e Simona Madonna, e ha visto la partecipazione di tantissimi artisti sordi provenienti da tutta Italia, che accompagnati dal calore e dallo stupore del pubblico presente, si sono esibiti mostrando le loro qualità artistiche. Daniele Gambini, Giulia Mazza, Angela Bombardi, Daniele Covarono, Rosaria Lagonigro, Valentina Butera, Gerardina Russo, Maurizio Scarpa e Viviana Vergari. La serata, realizzata con il patrocino e con il contributo del Comune di Pescara, è stata presenziata anche dal Sindaco di Pescara Carlo Masci e dall'assessore alle pari opportunità alla disabilità e al mondo animale, Nicoletta D'Inisio. A volte bisogna saper ascoltare con l'orecchio del cuore.